E con il numero 5 dell'Olimpio Milano, uno scudetto, una Fai del Fuolo, una Coppa Italia, due Supercoppe di cui una è da LVB, e con noi, Friado! 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 È molto emozionante per me. Voglio ringraziare il tuo lavoro che ha fatto l'Olimpia per l'Olimpia. L'Olimpia è la mia casa, la mia casa, e ho fatto questo in ogni turno della squadra. Grazie, un'altra volta, grazie per tutto. E allora, ringraziando Vlado Miso, vi invito il coach dell'Olimpia Milano, Epple Messina, insieme a Kyla Enza, a consegnare a Vlado la sua maglia numero 5. Grazie. Grazie. Grazie.